Fondamentali, voi non esseri vornese e non esseri sul gruppo, sei vornese sei, eh? Tutti ho le tira, le tira, uno scrive la cosa, tutti ho le tira, le tira, ma lo so che mi fa rire di sei vornese sei in questo video. Un intanto uno prende una foto di rivorno famosa, tipo la Iesa di Sayalpo, e ti fa sei vornese sei, sai dov'è? Ma sei scemo, la Iesa di Sayalpo, lo so per un sito, la Iesa di Sayalpo. Sono rivornese se so, l'orario delle messe, chi ci va e chi tromba o chi, eh? Perché poi, beh, cioè rivornese lo vedi da queste cose lì, eh? Un altro gruppo che mi fa impazzire su Facebook, anche questo è abbastanza rivornese, guarda, vedrò un nome generale, però è bello, se lo vuoi però devi fare la ossa, vedrai che lo devi, devi apprendere, vedrò io l'accettura, questi gruppi di fantastici, gruppi di baratto e scambio, che sono credibili, l'uno posta una foto di un ossa, si fa dei brutta, brutta, tazza sbocconcellata, il paperino, c'avevo due a un'ercizionata, le streghe a scattare il terreno, se lo tolto il bagno, ma chi lo vuoi? Tu ti coda, 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 voglio io, tu dai tu, no, voglio io, no, voglio io, no. Tocca! Ma insolete, Facebook senza film, perché non vedete quanto fa a capo la tazza lì? Ma poi se uno ve la regala sarà bella, no, ma se lo vuoi disfassere, se lo stai al suo visco, sui suoi litri oggetti, appogli dal tuo Facebook, fanno il giro, se li ripendano, fanno il giro, se li li legalo, come li legalo? Dai io la tazza, quella che l'ha venduta, coda, coda, voglio io, la tazza, dai qui, dai qui, lasci affezionata. E' un giro, fosse un confronto a tre punti, sai quanto c'ha a voi a me? Fì, a noi 5,50, ma dai tuoi, a noi, se esce una nuova, a noi, a noi, se venite da nuova, anche da parlare a un viarello. Ci sono le fortezze, ci sono le terrazze, sono gioielli che bisogna mostrare. Il nostro lungomare, tenuto così pancare, bisogna inizia a valorizzare. La storia di Livorno è bella e lunga, il mondo non è lì, per poco essere lunga.